No, proprio tonno, tonno, sei tu tonno? E' tonno, cipolla E' tonno e cipolla, ma c'è un peperoncino Ho peperoncino tutta operata Aspetta che dobbiamo fare anche tutta la intro Siediti con... La canca, l'aggetto diretto E' figata, sei E' figata, sei, già la sette per con noi oggi vai Ma hai piccani questo calcio? Sto bruciando il naso, sono niente a sentire Ciao Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Gianni Miau, siamo con Marwen Che è il proprietario dell'Apple Si vede proprio da un spasmo in la bocca Abbiamo qua di fianco lo chef Antonno Che è quello più veloce dell'isola Perché l'Antonno è insuperabile Ci ha portato Parish che compare qua Ecco Eccola, Parish che è il capo dei camerieri Qui al Digli Resort E ci ha appena fatto questo che è il toast Mardino, è resistente, non si ribalta neanche Una specie di men vs food Quindi siamo qua tutti e tre per... Marnaio, brucia! C'è ragazzini, c'è il peperoncino Ed è prima mattina Sono le 8 meno 20 Che ne sanno voi? Ma che è 7 e mezza? 5 e 6 5 e 6 è uscito da poco il sole Perché mangia Parish si è incazzato Ti raccomando Vai Puttana Tocchiccante? No Ma no Credo, credo che dentro ci sia forse tonno Cipolla E' un po' di fila E' un po' di fila E' un po' di fila Cipolla Mario però lo sta mangiando senza problemi C'è lui che l'ha fatto, l'ha inventato Penso tipo tonno, cipolla E peroncino come se non ci fosse un domani Stai visto? Quando lo mangi è buono Il problema è quando fai a tanti O peroncino È bello piccante Ragazzi io non ho ancora questo ma Non lo mangi Ragazzi noi ci vediamo al prossimo video Mi ha durato poco, perdonate ma purtroppo Non ho neanche tempo di editare in questo periodo Perché ci sono un sacco di cose da fare Quindi ringraziamo Marwen Mi raccomando iscrivetevi al canale Commentate e condividete Lasciate l'hashtag ciao Gianni Miao Se volete essere sponsorizzati nel video Se volete essere sponsorizzati nel video Tua sorella Se volete essere sponsorizzati nel video delle sponsorizzati Nel naso Bella ragazzi alla prossima Boom baby How are you today?